E buongiorno e buon meraviglioso sabato! Dopo aver letto le tue mail e i tuoi messaggi ieri qua su YouTube mi sono sentita un pochettino in colpa, ti dico la verità, quindi ho provato a modificare questo ril che avevo fatto ieri per Instagram. Semplicemente per darti un po' di motivazione, per farmi vedere, anche perché come mi è scritto non hai Instagram, non ce l'avete tutti, quindi insomma mi sentivo un pochettino a disagio, non so come dirti. Ci ho pensato tutto il giorno, o meglio tutta la notte, e questa mattina, prima di andare via, sono riuscita a modificare questo piccolo ril che come vedi dura solo un minuto e mezzo. Ieri mattina appunto sono andata a sistemare velocemente tutta la casa prima di andare a lavoro, ero già distrutta prima di andare a lavoro, mi hai chiesto anche come faccio ad avere questa carica, il trucco è bersi i litri di caffè al mattino. Scherzi a parte, diciamo che le pulizie come sei le faccio davvero molto presto prima che arrivi il forte caldo. Io con questo video oggi spero solo ed esclusivamente di averti fatto un pochettino di compagnia con questo mini video, ti auguro un super meraviglioso fine settimana, cerca di riposarti se ne hai la possibilità, soprattutto non uscire nelle ore più calde, se puoi e bevi, 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 cerca di idratarti e non far uscire i tuoi genitori nelle ore più calde. Io ti mando un abbraccio grande 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 e noi ci vediamo presto, ciao! Ciao! Ciao!